Se anche per tutto il mese di maggio avremo queste condizioni climatiche con le ore del giorno assolate e le notti fresche, possiamo ragionevolmente prepararci a una stagione di netta ripresa sia in termini di raccolto che di qualità. È la previsione con cui Stefano Cifeca, agronomo, ha concluso la sua relazione al seminario sulle tecniche di difesa dell'olivo organizzato a Ripida Coldiretti e da Opilatium, che oggi con i suoi 9.000 soci è la più grande rappresentativa organizzazione di ovicoltori nel Lazio. D'altra parte, gli ovicoltori, dopo l'ultima terribile annata con il crollo della produzione e una perdita di volume anche superiore al 60% sulla media, si aspettano un forte recupero. Ma è importante, ha precisato Cifeca, che ora proprio in questo periodo si eseguano i trattamenti fitosanitari necessari, sia a rinforzare le piante, sia ad aumentare la fecondazione dei fiori. Il successo del seminario ha coinvolto la Coldiretti di Frosinone a proseguire lungo questo percorso di confronto e aggiornamento. Stiamo già lavorando a un secondo evento che terremo al massimo entro un mese, sempre in Ciasaria. Il risconto che abbiamo avuto a Ripi, spiega il direttore della Coldiretti di Frosinone Pietro Greco, in termini di partecipazione e di interesse verso le tematiche dell'olivicoltura, merita approfondimenti. Ma non è tutto. L'Assemblea è stata anche l'occasione per mettere a punto la finalizzazione di una politica promozionale del prodotto livicolo locale. Abbiamo chiesto ed ottenuto dall'amministrazione comunale la disponibilità a strutturare accordi per introdurre l'impiego dell'olio extravergine di oliva sociaro nelle mense scolastiche, dove non è più possibile continuare lungo la strada dell'affidamento degli appalti sulla scorta del massimo ribasso. Nelle mense dove mangiano i nostri bambini, conclude Greco, la qualità delle materie prime, olio su tutte, deve essere qualitativamente eccellente. Questa garanzia di qualità la si può ottenere solo con la fornitura di prodotti locali a chilometro zero tracciati dall'origine al consumo.